Buongiorno, buongiorno a tutti, buon anno, ben ritrovati e ringrazio il nostro regista Alberto Bianchini e ringrazio ovviamente il professor Giuseppe Cotruvo che è di nuovo tra noi. Partiamo oggi facendo un po' visto che ci siamo lasciati prima delle vacanze talizie, facciamo un po' il punto sugli ultimi concorsi usciti, un esempio può essere il concorso per gli allievi dirigenti SNA, ma anche il comune di Messina, parleremo dei concorsi in arrivo con qualche indicazione su come iniziare magari a studiare, a prepararsi per non arrivare con l'acqua alla gola alle prove e parleremo tra i vari concorsi appunto in arrivo anche quelli del mondo scuola, quindi dirigenti scolastici, è uscito inizio anno in regolamento e di SGA che dovrebbe essere in arrivo. Di tutto questo e di molto altro e molto di più ci parlerà il prof Cotruvo che salutiamo. Buongiorno prof. Buongiorno Federica, buongiorno Alberto che altrimenti potete chiamarlo Giacomo, scoperto, ha questo secondo nome e buongiorno a tutti quanti. Allora io stavo vedendo ad esempio il bando Federica, non so se hai visto, della provincia di Sassari che era interessante, però ho provato a cercarlo proprio adesso e non riesco a trovarlo. Non so se lei vuole vedere. Grazie che non sia ancora stato pubblicato. Non lo so, ho visto qui c'è procedura per un posto da dirigente e la nomina, quindi volevo vederlo perché mi è stato chiesto da un po' di persone però a questa marina. Quello da dirigente prof perché ci sono anche diversi posti per categoria C che erano usciti. Sì, cercavo quello perché mi hanno chiesto informazioni su quello, però non avendo il bando ho provato proprio adesso, non so se lo ho pubblicato. E provo a guardare magari meglio in quello che c'è scritto in gazzetta e vediamo se danno un... Eh no, in gazzetta rinviano al sito. Immagino, però magari guardo se c'è un indirizzo particolare che loro hanno messo qua. Va bene, assolutamente sì. Allora, vediamo, facciamo un po' il punto della situazione perché molti mi hanno chiesto insomma cosa dobbiamo aspettarci. Prima di... quindi vi riproporrerò un po' di notizie che ho già dato e più poi delle cosine nuove. Allora, io partirei... Prof, mi perdoni, la interrompo se vuole, io l'ho trovato, il bando di Sassari, in provincia Sassari concorsi smart.it. Sì, vuole dire insomma un po' le caratteristiche fondamentali, chi può presentare la domanda e quali sono le prove previste? Certamente. Allora, dunque, requisiti, dunque è una categoria C, abbiamo detto che sono dieci posti, istruttore amministrativo, da assegnare alle sedi degli uffici di Sassari e della zona omogenea di Olbia e Tempio e poi requisiti soliti, città di generanza italiana, diritti politici, conoscenza della lingua italiana, età sopra i 18 anni, le varie unità, non aver riportato condanne e poi tutta la trafila su come presentare la domanda, cosa allegare, documenti da allegare, tutte queste cose qui, poi prove d'esame. Nel caso di oltre 100 candidature ci sarà una prova preselettiva e dunque l'eventuale prova sarà un test da risolvere in 60 minuti con 60 domande a risposta multipla, 20 attitudinali, quindi capacità logica deduttiva, ragionamento logico matematico e critico verbale e 40 sulle materie oggetto della selezione che verrà spiegato più tardi. Poi la prova d'esame ci sarà, quindi poi chi supererà questa preselettiva potrà accedere a una prova scritta e poi ci sarà la prova orale, la prova scritta a carattere teorico e pratico sarà volta a accertare le competenze e potrà essere usato l'uso di dispositivi informatici e potrebbe essere o un elaborato o uno schema di un atto amministrativo o dei quesiti a risposta sintetica. La prova scritta sarà sulle solite più o meno materie per questo profilo, ovvero diritto costituzionale, amministrativo e civile, delle nozioni, l'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile antilocale, la contabilità degli antilocali, il procedimento amministrativo di accesso agli atti, accesso civico, il pubblico impiego, il CAD, delitti contro la PA, trasparenza, anticurazione, sicurezza sul lavoro, gli appunti pubblici e direi che questo è quanto, poi durante l'orale credo accerteranno la congenza dell'inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse. Bene, bene, quindi a chi me lo chiedeva, mi chiedevano consigli sul volume da utilizzare, quindi direi che va benissimo in qualunque volume, tipo l'impiegato comunale. Esatto, esatto. Faccio una particolare attenzione, visto che adesso le prove secondo me, orché dunque è uscito ieri, ci sarà per un mese, si potrà presentare le domande, poi ci saranno le prove e per quel che riguarda gli appalti pubblici sappiamo che c'è in lavorazione il nuovo codice che il governo dice che vuole fare entrare in vigore il primo aprile, è stato approvato al Consiglio dei Ministri e adesso nelle commissioni parlamentari. Io non so se lo chiederanno o meno, però bisogna tenere conto anche di questo, di questa normativa in cambiamento, ecco. Giusto, e come per la parte di logica, vediamo qui in questa selva selvaggia di volume. Ma prof, il suo, i quiz di logica e psicoattitudinali. E test psicoattitudinali. Dottoressa, non esce il mio volume qui, tra tutti questi. C'è stato un ammutinamento. No, perché noi secondo me abbiamo messo quiz o test di logica e psicoattitudinali. Quiz di logica e psicoattitudinali. Sì, continuiamo. Vediamo, vediamo. Io non faccio mai una ricerca su me stesso. Ah, eccolo, forse c'ha ragione. Questo qui, allora. Questo qui. Quindi a chi me lo chiedeva, può andar bene questo volume. Non ce l'ha coperto. Che non si vede. Ah, eccola qui. Eccolo, voilà. Eccolo. Yes. Va bene. Questa è sempre un po' la bibbia della logica, mi perdoni. Lei è troppo buona, guardi, veramente. Non so come mai questo buon gusto, però io apprezzo, diciamo così. Va bene. Allora, dicevo, ho dato un po' un'occhiata anche alla rassegna stampa che pubblica il Dipartimento della Funzione Pubblica per vedere insomma quali fossero gli orientamenti espressi dal ministro, magari qualcosa è cambiata. E tipo, vi segnalo due interviste che ha rilasciato proprio durante le festività, una PIA Magazine che dice il potenziamento degli organici e che dice Zangrillo, il ministro della pubblica amministrazione, dice il potenziamento degli organici è una necessità, dato che negli ultimi vent'anni la PIA si è ridotta di quasi 260.000 lavoratori. Grazie anche alla PNRR sono previste entro il 2023 35.900 funzioni, oltre alle 314.000 destinate a soddisfare il turnover. I nuovi concorsi saranno digitalizzati, quindi conferma che saranno utilizzati, diciamo, strumenti informatici, quindi per lo più prove al computer, salvo situazioni particolari, e dovranno passare necessariamente dal nuovo portale del reclutamento INPA, che col nuovo anno sostituisce in tutto la pubblicazione della gazzetta ufficiale. Qui specifica che in realtà già dal primo novembre per le amministrazioni centrali è obbligatoria la pubblicazione dei bandi sul nuovo portale, mentre lo sarà dal 31 maggio 2023 anche per regioni e enti locali. In realtà qualche ente locale già sta utilizzando INPA, altri lo faranno obbligatoriamente a partire dal 31 maggio. Poi dice che il capitale umano è centrale e strategico per ogni organizzazione, non è mai soltanto un problema di quantità, anzi ormai soprattutto di qualità. E qualità è appunto sinonimo di passione, consapevolezza dei ruoli, competenze, orientamento dei risultati e senso di appartenenza. Vabbè, quindi qui lui conferma che anche nel 2023 ci saranno, diciamo, molte assunzioni, e poi una intervista, secondo me, anche dove insomma riprende questo elemento, questa credo fosse proprio del 30 dicembre o giù di lì, dice, credo sia il sole 24 ore, se non sbaglio, sarà un altro anno fitto di assunzioni nella pubblica amministrazione, in un conto gonfiato però dall'onda del turnover spinto dall'invecchiamento degli organici e rinforzato da una legge di bilancio che, con le poche risorse libere dalle urgenze del caro energia e dalle altre priorità del governo, dedica un'attenzione chirurgica ai singoli settori più in difficoltà, anche se dal punto di vista finanziario il passaggio più ricco della manovra per la pubblica amministrazione è destinato all'aumento straordinario che nel 2023 farà salire dell'1,55% gli stipendi dei dipendenti. Per le amministrazioni centrali la manovra mette un miliardo di euro, quindi enti territoriali, sanità, università, dovranno trovare nei propri bilanci altri 800 milioni circa, indispensabile a far scattare l'adeguamento automatico. È stato un lavoro complesso per i tempi ridotti, per le difficoltà del contesto economico, traccia un consentibile ministro per l'APA Paolo Zangrillo, serviva una risposta urgente e arrivata. Ma in fatto di pubblica amministrazione per il titolare di Palazzo Vidoni la manovra è un primo passo in un percorso che dovrà proseguire un dialogo istitutivo con le parti sociali per avviare una nuova stagione contrattuale che tenga in considerazione il particolare momento in cui viviamo. Sostanzialmente dice che comunque il governo sta cercando di portare mano all'adeguamento degli stipendi, considerando che abbiamo tassi di inflazione ancora molto molto alti, si diceva qualche giorno fa, superiore all'11%. Mi impegno a cercare le risorse per i rinnovi contrattuali e i primi segnali di ripresa speriamo già nei prossimi mesi nell'ambito degli equilibri di bilancio. Va bene. Nel frattempo la macchina pubblica deve continuare a girare con i numeri della gestione ordinaria rinforzata dalle risorse settoriali scritte in manovra. Sul piano del turnover, Funzione pubblica calcola per l'anno prossimo 156 mila nuovi ingressi. Attenzione, questo è un dato significativo, uno dice 156 mila nuove assunzioni. In realtà è un dato che dovete, quando leggete queste cifre su social, dove un po' di persone si confrontano, considerate che è un dato che deve tenere il conto, ad esempio, delle decine di migliaia di assunzioni solo nell'ambito scuola. Quindi non sono 156 mila nuovi amministrativi. Quindi vanno tolte tutte le assunzioni nell'ambito scuola. È solo di docenti e persone alleate, ripeto, si parla di decine di migliaia di nuove assunzioni. Forse più o meno la metà, o se non addirittura più della metà di questi posti, sono solo per il settore scolastico. Poi vanno inserite in questo numero tutte le assunzioni che vengono effettuate nell'ambito delle forze di polizia e delle forze militari. Sono altre migliaia di vita. Poi ci sono tutti i ruoli tecnici e ipertecnici e i posti del PNRR con le assunzioni a tempo determinato. Cioè, alla fine, di assunzioni per profili amministrativi, che sono quelli che magari interessano maggiormente alle persone che ci seguono, saranno forse 15-20 mila nuove assunzioni, esagerando, nell'ambito del 2023. Quindi non dovete pensare, quando uno dice quelle persone che sperano negli scopriamenti del creatore, ma tanto ci sono 156 mila nuove assunzioni, vuoi che non scorrano le graduatorie e vengono assunti tutti quelli che sono nelle graduatorie, anche quelle particolarmente ingolfate dei candidati? Considerate, 156 mila è un dato d'insieme relativo a tutti i settori, non ho parlato del settore sanitario, anche le assunzioni del settore sanitario, quindi infermieri, medici, eccetera, rientrano in questo novero. Ecco perché dicevo, per gli amministrativi, che sono quelli che interessano maggiormente le persone che ci seguono, probabilmente, adesso non ho proprio dati di dettaglio, però forse saranno 15-20 mila, ma proprio esagerando 20 mila, nell'ambito del 2023. Quindi capite che sono molti meno dei 156 mila indicati. Questo ve lo dico sempre in virtù di quelli che mi dicono, ma scorreranno le graduatorie? In realtà, con la manovra di bilancio adottata e entrata in ricordo del 1 gennaio, non ci sono grandi indicazioni su scorrimenti importanti di vecchie graduatorie. Sì, ci saranno nuove assunzioni, ma non aspettatevi cose sconvolgenti. L'unico tassello, ma ampiamente anticipato, di una certa rilevanza sono le assunzioni dell'agenzia delle entrate, i 3.900 posti, ma di cui già si sapeva, l'agenzia già da tempo aveva chiesto al governo di procedere con il nuovo piano assunzionale e l'autorizzazione è stata effettuata tramite la legge di bilancio. Quindi, 156.000 ingressi, poi considerate anche che in realtà, anche se in modo lieve, però c'è già un primo segnale di inversione di tendenza, perché l'anno precedente ce ne erano state oltre 157.000, quindi parliamo di solo poche centinaia di unità in meno, però i primi segni di un'inversione di tendenza ci sono. Qualcuno mi chiedeva, ma perché questi segni di inversione di tendenza? Per tutto quello che ci siamo detti, considerate che sta andando a regime la riforma delle pensioni, per quanto il governo abbia dichiarato che ci sarà un nuovo passaggio nell'arco dell'anno, si parla di quota 103, quindi per andare in pensione, 62 anni di anzianità, più almeno 41 anni di contributi. altrimenti per poter andare in modo anticipato rispetto ai 67 anni, oggi di lì a seconda dei profili previsti dalla normativa. Quindi da quota 100 siamo passati a quota 103, questo significa che comunque inizieranno a uscire meno persone dal sistema lavorativo, quello quantomeno relativo alla pubblica amministrazione. In più va considerato che effettivamente ci sono state tante assunzioni, tanti concorsi che sono stati portati a compimento lo scorso anno o negli ultimi anni, negli ultimissimi anni. Considerate che ad esempio un ente come l'Inps, di cui si è tanto parlato per i concorsi, l'Inps negli ultimi 4 anni, ne parlavo proprio durante queste festività con un sindacalista dell'Inps, negli ultimi 4 anni ha assunto qualcosa come 9.000 e con le assunzioni relative a questo bando, al bando dei 1858, consulmente della protezione sociale, con oltre 5.000 idoni, quindi portando a compimento anche le assunzioni di questo bando, arriverà a un totale di assunzioni negli ultimi 3-4 anni di quasi 9.000-10.000 nuove unità su un organico di 27.000 unità circa. Quindi praticamente parliamo in 4 anni del rinnovo di circa un terzo dei dipendenti attuali e certamente il ritmo non potrà andare avanti così, poi per forza di cose ci sarà un calo delle assunzioni. Quindi di fronte ad una buffata di assunzioni poi dovete aspettarvi per motivi proprio fisiologici un calo delle assunzioni, quindi una progressiva riduzione delle assunzioni. Diciamo che quest'anno ancora del rato, 2023 ancora ci saranno molte occasioni per entrare nella pubblica amministrazione, però la prospettiva è di questo calo di cui già mesi fa vi ho parlato e i primi segnali iniziano ad esserci tutti. Vi ho parlato di una riforma delle pensioni e il governo ha già iniziato a metterci mani e in più poi il discorso dei ruoli tecnici, cioè la pubblica amministrazione sta cercando di dare maggiore spazio all'assunzione di profili tecnici e anche questa sarà una tendenza che continuerà ad esserci nei prossimi anni, ovviamente a discapito poi di profili amministrativi. E cos'altro dice questo articolo? Dice quindi a cui si aggiungono quasi 7500 assunzioni extra dettagliate dalla legge di bilancio. Ma di queste vi dicevo praticamente più della metà, la metà o più della metà sono quelle autorizzate con legge di bilancio per l'Agenzia delle Trate, cioè i 3900 nuovi ingressi. Tra i settori interessati c'è il Ministero della Giustizia con 800 nuovi ingressi, il Ministero dell'Agricoltura con 300 funzionari da dedicare al contrasto delle frodi. Questo è un concorso molto atteso su queste nuove assunzioni che verosimilmente saranno fatte per l'appunto un nuovo bando di concorso. Poi è ancora forte l'iniezione di risorse nella Corte e alla Corte dei Conti che attende 369 assunzioni tra 2023 e 2024. Al Ministero degli Esteri sono invece attesi 520 ingressi entro il 2024. Per il Ministero degli Esteri bisogna rivedere in che termini saranno effettuate queste assunzioni se con nuovi bandi di concorso o con scorrimenti delle creditorie sia del profilo per diplomati sia dei profili per funzionari. Questo poi lo valuteremo meglio nelle prossime settimane, nelle prossime mesi. Quindi non è detto che ci sia un nuovo bando. Quando si parla di nuove assunzioni non necessariamente poi segue un nuovo bando. A volte, insomma, queste assunzioni vengono fatte per il scorrimento delle creditorie di quelle che ci sono, di quelle vigenti. A cui si affiancano 50 unità aggiuntive del contingente di personale a contratto per la rete estera. Va bene. Mille assunzioni a ritmi da 250 all'anno sono poi previste per la polizia penitenziaria. Quindi altre assunzioni per la polizia penitenziaria. Per quella che riguarda gli enti locali, Funzione pubblica ha concentrato l'intervento su uno delle esigenze più delicate e trascurate negli ultimi anni, quello della carenza di segretari comunali e provinciali. Sono il vertice amministrativo cruciale per il funzionamento degli enti, ma su 7.904 comuni solo 2.168 possono vantare uno segretario titolare e la scopertura diventa quasi totale negli enti fino a 3.000 abitanti. 206 di occupate su 2.422, cioè l'8,6% del totale. La nuova riforma promossa da Zangrillo in legge di bilancio si occupa in particolare dei comuni attuatori di interventi del PNRR permettendo di finanziare il trattamento economico dei loro segretari anche come il fondo della 30 milioni all'anno attivo fino al 2026 per le assunzioni dei piccoli comuni impegnati nel piano. Quindi, insomma, sostanzialmente diciamo che ci sono notizie che per il 2023 continuano ad essere notizie confortanti per chi punta ad entrare nella pubblica amministrazione ci saranno una serie di concorsi più o meno importanti. Qui vado un po' a braccio. Negli ultimi giorni durante le festività molti mi hanno chiesto dei nuovi bandi da DSGA perché sono circolate tante voci, c'è chi ha detto il bando per gli esterni probabilmente non uscirà più, ci sarà solamente il bando per i facenti di funzione, eccetera. Io devo dire a queste voci a me, francamente, non risultano fondate, può anche darsi che non sia io aggiornato e attenzione non puoi stare dietro a tutte quante le situazioni è complicato. A me risulta che ci sarà sia il bando per i facenti di funzione sia il bando per gli esterni e per entrambi i bandi tra l'altro mi risulta che siano abbastanza eminenti. Già si parlava di una possibile uscita dentro la fine dell'anno scorso ma avete visto che non ci sono stati comunque insomma non da quanto risulta a me non tarderanno molto quindi si tratta di settimane e poi nell'arco del 2023 a questi due bandi si aggiungerà anche il bando il nuovo bando per dirigenti scolastici però alla dirigenza scolastica cioè diciamo il profilo dei presidi come si diceva un tempo si può accedere possono accedere le persone coloro i candidati che hanno già maturato un'esperienza di insegnamento nell'ambito scolastico di 5 anni e quindi è necessario questo requisito per potersi per poter partecipare a questo tipo di concorso questo per l'ambito scuola oltre poi ovviamente a tutte le assunzioni previste per il personale ATA e per i concorsi a cattedra quindi per diciamo diventare docente in ambito in ambito scolastico e in più sempre dal mondo scuola è previsto poi la pubblicazione del nuovo bando per TFA in attesa della riforma per accedere per avere la riforma diciamo dei 24 CFU per chi è interessato ogni tanto qualcuno me lo chiede riforma che era prevista per quest'estate poi durante quest'estate insomma con la caduta del governo e le votazioni che ci sono state la riforma è stata un po' accantonata adesso si aspetta di vedere il governo se la riprenderà e in che termini la proporrà però intanto per il nuovo ciclo di TFA il bando è atteso tra febbraio e marzo quindi insomma qualche settimana di attesa e su questo bando a chi mi chiede se insomma Maggiori pubblicherà un nuovo volume forse se la dottoressa Argelli me lo consente io un nuovo volume lo pubblicherei se la dottoressa Argelli me lo consente allora la dottoressa Argelli mi dice no tu non devi lavorare a questo volume e io non ci lavoro però dottoressa no no io assolutamente prof lei a carta bianca quindi lei ci sta già lavorando ah lei dice ma non lo so forse va bene forse mi sarei distratto io non me ne sarei accorto va bene va bene quindi probabilmente anzi senza probabilmente ci sarà anche un volume per il TFA di sostegno rinnovato e rispetto alle edizioni del passato questo per il TFA per diciamo le novità dal dal miur qualcuno mi diceva altri concorsi per funzionari eccetera diciamo che per eventuali funzionari o altri profili per il momento si procederà con lo storimento delle creadorie dei concorsi espletati dal miur in modo particolare quello per funzionari poi quando sarà esaurita quella creadoria si deciderà insomma se procedere diversamente con eventuali nuovi nuovi bandi detto questo oltre alle assunzioni di cui che sono state anticipate da Zangrillo ma vi dicevo dobbiamo capire anche meglio se con nuovi bandi o con lo scorrimento quello del ministero dell'agricoltura dovrebbe esserci un nuovo bando di concorso per altre assunzioni vedremo perché tipo ministero degli esteri ha delle creadori in piedi in modo particolare la creadoria per assistenti quindi bisognerà capire come saranno fatte le nuove assunzioni in che termini e se con attingendo quella creadoria oppure saranno profili differenti quindi si deciderà di bandire nuovi concorsi però su questo poi ci aggiorniamo nel corso delle prossime settimane poi gli altri bandi sono quelli dell'agenzia delle entrate sempre autorizzati adesso c'è anche l'autorizzazione le 3900 assunzioni e su questo varie insomma abbiamo già speso un bel po' di tempo nei precedenti webinar per cui non mi dilungo molto comunque molti mi stanno chiedendo ma uscirà il nuovo bando quando uscirà non dovrà uscire entro la fine del 2022 se ricordate io nei precedenti webinar varie volte ho detto guardate sì c'era la possibilità entro la fine del 2022 o con slittamento a inizio del 2023 e spesso vi ho detto che per me io me lo sarei aspettato con molta più probabilità nel corso del 2023 come poi effettivamente sarà esattamente quando ancora oggi non è facile da dire intanto notizia di ieri avanti ieri è stato riconfermato Ruffini al vertice dell'agenzia delle entrate quindi questo porta poi anche ad una sostanzialmente ad una continuità nelle scelte operative e nella gestione operativa dell'agenzia delle entrate quindi non 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 mi aspetto cambiamenti di di rilievo come possibilità di pubblicazione del nuovo bando diciamo io non me l'aspetterei prima di marzo 2023 me l'aspetterei dopo marzo 2023 e in merito alle voci su un cambiamento del canovaccio delle prove sono tutte voci confermate anche se su queste io mi attendo di capire meglio con atti pratici quello che cambierà perché al momento vedo andando a consultare i documenti ufficiali dell'agenzia delle entrate che nel regolamento di amministrazione dell'agenzia è ancora riportato in merito proprio alle assunzioni del personale non dirigente quello che state vedendo adesso in questo screenshot che continuano a riportare che il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di terricinio teorico pratico retribuito di regola della durata di un anno anche se solitamente non è mai stato o negli ultimi bandi si è proceduto con sessioni da sei mesi di terricinio retribuito una delle principali novità di cui si sta parlando con insistenza è proprio la eliminazione del terricinio in modo tale da concludere la procedura selettiva entro la fine del 2023 quindi questo in termini proprio di orientamento parlando anche con un po' di sindacati quindi con persone che hanno partecipato ai tavoli di confronto con la direzione nazionale dell'agenzia delle entrate si è parlato di questo quindi della possibilità di eliminazione del tirocinio e di procedere con prove più più snelle rispetto al passato con quindi probabilmente se dovete metterlo nel vostro calendario eventuali prove a quiz da svolgere in autunno tra settembre e ottobre e con poi prove orale da svolgere immediatamente dopo tra novembre e dicembre in modo tale poi da poter procedere con le assunzioni al massimo a inizio duemila ventiquattro e prima di predisporre poi un secondo bando per diciamo il profilo quello più consistente quello dei funzionari amministrativi tributari che va atteso nel corso del duemilaventiquattro verso probabilmente maggio giugno duemilaventiquattro quindi le assunzioni principali continueranno a essere nel profilo di funzionari amministrativi tributari a cui si potrà accedere con la laurea trennale in giurisprudenza o scienze giuridiche insomma economia e commercio scienze politiche o titoli equiparati o equipollenti per legge quindi ovviamente vanno bene se va bene la trennale a maggior ragione vanno bene le magistrali quindi comunque assunzioni per laureati come principali contingenti ci sarà qualcosa anche per diplomati come i 60 assistenti informatici però la maggior parte delle assunzioni saranno per profili da laureati il primo bando dovrebbe avere oltre 2500 unità quasi tutte principalmente diciamo funzionari amministrativi tributari però ci sarà anche qualche ulteriore profilo nell'ambito dello stesso bando in modo analogo quanto fatto per il bando dei 2320 cioè l'ultimo bando che è in colso di conclusione in alcune regioni hanno praticamente già concluso anche gli orali ci sono però delle regioni come la Lombardia eccetera soprattutto alcune regioni del nord in cui gli orali si erano svolti in questo mese tra questo mese tra gennaio e febbraio quindi dopo insomma la conclusione di questa procedura poi aspettatevi il bando di nuovo bando di concorso però attenzione i tempi mi raccomando saranno brevi cioè le previsioni sono queste bando non immediatamente bando probabilmente ad aprile maggio se non addirittura a giugno però poi con una scansione delle prove molto ravvicinate in modo tale da concludere la procedura entro la fine del 2023 e per poi procedere ad una nuova procedura nel 2024 quindi spero di aver chiarito e di aver aggiornato su questo bando di concorso a chi mi chiede conviene iniziare a studiare io vi dico sì però poi ovviamente sta a voi alle vostre scelte decidere su quale concorso puntare se puntate all'agenzia delle entrate anche se il bando non lo pubblicano domani dovete iniziare a studiare altrimenti poi con tutte le materie a bando non riuscirete a raggiungere una preparazione degna non solo con questo canovaccio di prove con prove scritte orali molto ravvicinate e dovete studiare tutto da subito sia le materie attitudinali sia l'inglese sia l'informatica sia le materie tecnico-professionali quindi diritto amministrativo diritto tributario diritto commerciale civile contabilità aziendale scienza delle finanze statistica per citare quantomeno i principali materie che saranno messe a bando poi inps ritorniamo anche su questo avevo già speso un po' di indicazioni vi ho mostrato in uno degli ultimi webinar l'aggiornamento quello del 13 dicembre 2022 del piano assunzionale e vi dicevo quindi come nuovo concorso intanto questa settimana si conclude anche il discorso degli orali del concorso per consulenti della protezione sociale con il turno suppletivo che è stato stabilito nel mese di gennaio credo proprio domani se non se non sbaglio poi subito dopo si procederà con la convocazione e con le convocazioni quindi con le assunzioni non si è ancora capito se divise in due blocchi o se comunque tutte quante le assunzioni subito e per diciamo gli ultimi in grellatoria con contratti a tempo determinato in attesa poi dell'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato quindi sta circolando questa anche possibilità almeno qualcuno ha palesato ha paventato questo tipo di modalità di assunzione quindi assunti tutti quanti subito i vincitori tutti a tempo determinato e poi in attesa che vengano che ci siano le autorizzazioni ad assumere anche per gli doni non vincitori almeno quelli già non autorizzati la possibilità che venga offerta di assunzione a tempo determinato insomma vediamo questo ancora non si è capito bene ma tra pochi giorni nell'arco del mese capiremo meglio come procederà l'Inps in merito per il nuovo concorso per i consulenti della protezione sociale per quanto nel piano trennale siano previsti nuovi contingenti di assunzione però non sembra eminente ci vorranno vari mesi non aspettatevi secondo me questa però è una mia previsione considerando il modo in cui si sono regolati anche negli anni scorsi io non mi aspetterei nulla prima di fine 2023 e mi aspetterei un eventuale nuovo bando nel 2024 anche il 2024 inoltrato però anche su questo poi ci aggiorniamo questo ripeto per il profilo da consulenti della protezione sociale quindi diciamo per il profilo da funzionari quindi il profilo per laureati mentre nel corso del 2023 è possibile e probabile che ci sia il bando per i diplomati Inps per oltre 500 diplomati Inps quindi il livello di assistenti non sembra però al momento imminente cioè ci vorranno ci vorranno alcuni mesi prima che si venga che si arrivi alla pubblicazione del nuovo bando per diplomati per diplomati Inps quindi c'è da c'è da attendere poi sempre da parte dell'Inps si attende anche un eventuale nuovo bando per il profilo da avvocati il precedente è stato concluso con 23 doni il bando da 15 avvocati ha avuto 23 doni però in realtà nella programmazione dell'Inps sono previste molte più assunzioni per avvocati per cui quella regalatoria sarà portata ad esaurimento con la proporzione anche da parte del dipartimento della funzione pubblica e poi tra vari mesi probabilmente nella seconda parte del 2023 è possibile che ci sia un nuovo bando anche per avvocati per avvocati Inps e oltre a questi poi va considerato che l'Inps ricomincia ad assumere dirigenti alcuni dirigenti saranno assunti con il bando SNAH però è previsto anche che l'Ente proceda con un bando proprio per sia dirigenti amministrativi sia dirigenti informatici e anche questo verosimilmente insomma ce lo dobbiamo aspettare nell'arco del del 2024 del 2023 però considerate anche questo bando per i dirigenti non è proprio eminente ci verranno alcuni mesi prima che si arrivi alla ad un'eventuale pubblicazione di questo bando per Inps quindi riassumendo per Inps profilo bando nuovo bando per funzionari quindi il livello da laureati ci verranno io secondo me ci verranno molti mesi cioè non è imminente almeno non ho segnali che ci sia un bando imminente all'orizzonte io me l'aspetterei più che altro nel corso del 2024 più imminente dovrebbe essere il bando per diplomati che mi aspetto nell'arco dell'anno però non subito cioè non nell'arco di bucche settimane ma ci sarà da aspettare qualche qualche mese non è imminente quindi abbiamo parlato della scuola abbiamo parlato dell'agenzia delle entrate abbiamo parlato dell'Inps mi chiedono scorrimenti di graduatori Formez al momento bisogna attendere insomma sì ci saranno altri scorrimenti per le graduatorie da funzionari però in merito al Formez considerate che nelle ultime settimane al Dipartimento della Funzione Pubblica sono stati notificati una serie di una serie di ricorsi per chi è interessato questo lo vediamo tra un po' per chi è interessato vediamo dove l'ho inserito perché eccolo qui se volete dare un'occhiata se andate sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica questo è diciamo l'indirizzo internet quindi www.funzionepubblica.rovo.it slash fonte slash dipartimento troverete una serie di notifiche di ricorsi vari che sono stati presentati da molti molti candidati in merito proprio ai concorsi espletati dal Formez negli ultimi mesi c'è questo di Burand Agata Rieta questo di Albanese Castoro Costantino Gorgoni Bartolini questi sono ad esempio proprio recentissimi di ieri e avanti ieri ma ce ne sono altri anche delle settimane precedenti e quindi pendono anche un po' di questi ricorsi che in alcuni casi hanno rallentato la procedura di pubblicazione delle gradatorie che ancora non sono state pubblicate tipo quella per diplomati del Formez comunque sia al di là di questo un po' di aggiornamenti ci sono li trovate su Ripam Formez sul sito proprio dovete andare Ripam Formez con tipo in merito alla Ansfisa ci sono aggiornamenti sulla pubblicazione delle regolatorie questo era un vecchio concorso quindi andate a vedere chi è interessato al concorso sfisa quali sono questi aggiornamenti il ministero dell'economia sono state il profilo però per il personale dirigenziale 38 dirigenti ci sono le regolatorie finali di merito che sono state pubblicate a inizio gennaio ministero del turismo ci sono le convocazioni per le prove orali il 3 febbraio per le 20 unità di personale amministrativo di terza area e l'8 febbraio per le 10 unità di seconda area i candidati svolgeranno le prove a Roma regione Calabria la selezione per 487 unità di personale a tempo indeterminato e 81 a tempo determinato ci sono il decreto di approvazione delle regolatorie finali di merito questo risale a fine dicembre concorsi ANAC ci sono aggiornamenti del 23 dicembre in merito a questi concorsi concorso quello relativo ai 1249 unità a tempo indeterminato dell'ispettorato nazionale di lavoro del lavoro c'è la pubblicazione della regolatoria finale di merito del profilo ISP per i concorsi dell'aglab basilicata c'è le agenzie del lavoro della basilicata si sta procedendo all'assegnazione delle sedi quindi pubblicazione delle regolatorie delle regolatorie assegnazione delle sedi eccetera quindi diciamo che durante le festività ci sono stati un po' di aggiornamenti quindi chi non ha avuto modo di vederli almeno per i concorsi formes andatele a vedere e questi aggiornamenti li potete ad esempio trovare in questo elenco sul sito del ripam formes cos'altro come aggiornamento di concorsi mi chiedono alcuni del concorso ACI se ci sono novità sulla riattivazione di quei bandi ad oggi ancora non riesco a darvi delle indicazioni aggiornate vediamo se per la prossima settimana con il webinar della prossima settimana avremo degli aggiornamenti anche in merito a queste situazioni intanto visto che stavo parlando di formes qualche giorno fa il formes ha pubblicato la nuova gara europea dottoressa Argelli ascolti bene la nuova gara europea per l'affidamento del servizio integrato quindi per diciamo lo svolgimento dei concorsi e questa gara europea sempre con modalità di global service quindi insomma il formes sta abbandito questa gara per una azienda una società che possa gestire le varie fasi dal riperimento delle aule allo svolgimento poi concreto dei concorsi alla messa a disposizione di tablet eccetera per i concorsi che l'istituto dovrà organizzare su tutto il territorio nazionale è una gara da 15 milioni di euro al netto dell'iva quindi parliamo di oltre 18 milioni di euro la scadenza dei termini vabbè a voi non interessa comunque 2 febbraio e come procederanno 15 milioni di euro considerate probabilmente considerando che il formes stima una spesa di 40 euro o 50 euro secondo delle modalità concorsuali per ogni candidato che partecipa al concorso significa che il formes continuerà a gestire concorsi per forse 250 300 mila unità nel corso del 2023 quindi insomma gestirà evidentemente molte altre sedute concorsuali e in questo nei documenti che ho letto sostanzialmente si conferma lo svolgimento il canovaccio di svolgimento delle prove con sempre prove ad esempio con dei tablet e sono previste anche dei requisiti tipo a seconda della regione su quanti candidati vengano selezionati nelle singole regioni tipo per ogni giornata di prove concorsuali tipo per Frio di Venezia Giulia Trentino Umbra Basilicata Molise Valle d'Aosta si l'azienda deve essere in grado di reperire dalle sedi che possono mettere a disposizione dei locali con lo svolgimento di la selezione di almeno 2000 candidati nell'arco della stessa di una giornata per Calabria Sardegna Liguria Marche Abruzzo fino a 4.000 candidati per Veneto Sicilia Emilia Piemonte Puglia e Toscana fino a 6.000 candidati mentre per le tre principali città metropolitane Roma Milano e Napoli sedi che possano ospitare fino a 8.000 candidati contemporaneamente nell'arco della giornata magari suddivisi in due sedi concorsuali quindi diciamo che il Formez procederà con questa gestione quando possibile in sedi dislocate e sempre con anche l'ausilio di tablet perché nell'ambito di questo bando è prevista anche e richiesta all'azienda che si accappagherà insomma questa gara anche l'utilizzo e quindi la messa a disposizione di tablet fino a 1.000 o fino a 2.000 secondo insomma dalle fasce fino a 3.000 o a 4.000 a seconda delle fasce a cui poc'anzi facevo riferimento quindi insomma senza che vi dia altri particolari tanto a voi non interessano la cosa importante è che da questo documento si evince proprio che anche nei prossimi mesi la gestione dei concorsi sarà sostanzialmente almeno dei concorsi affidati alla Formez sarà sostanzialmente in continuità con quanto è stato fatto nei mesi precedenti e come ulteriori selezioni che gestire il Formez considerate che ci sono sempre quelle nell'ambito della PNRR che non non si è ancora concluso ci saranno altre assunzioni cioè ad esempio il bando un bando del Ministero della Giustizia per un migliaio di posti più poi mi stanno alcune persone mi stanno tornando a chiedere quando ci sarà il nuovo bando per l'ufficio del processo però anche su questo io vi devo dire che a me non risulta che ci sia nulla di imminente cioè probabilmente il nuovo bando io non me l'aspetto prima di fine 2023 tra fine 2023 e inizio 2024 come lo dovete aspettare il nuovo bando per l'ufficio del processo con ulteriori 8000 assunzioni in questo ambito non abbiamo indicazioni differenti al momento qui più come curiosità ma la propongo perché poi c'era anche un cenno ai concorsi pubblici da alcuni giorni si sta parlando di questo portale lo sta facendo il Ministro Zangrillo la tua PA portale per segnalare quello che non va nelle pubbliche amministrazioni quindi hanno iniziato a parlarne a dicembre ma se ne sta continuando a parlare anche nelle ultime giornate e ve ne parlo anche perché si dice attraverso il nuovo portale la tua PA il cittadino potrà segnalare comportamenti non corretti dalla pubblica amministrazione che pregiudichino un suo interesse particolare come ad esempio nei casi di inadempienze per mancata adozione nel termine del provvedimento richiesto per la violazione di norme nel procedimento amministrativo che lo riguarda oppure un interesse di portata generale come ad esempio nei casi di irregolarità nei concorsi pubblici o nel conferimento di incarichi quindi diciamo che il dipartimento della funzione pubblica sta promuovendo questo canale per anche in merito a chi insomma si approccia dei concorsi e vuole gestire vuole segnalare delle irregolarità quindi un canale per segnalare queste irregolarità per accedere a questo portale lo si può fare però tramite speed quindi chi non ha speed ancora una volta visto che Zangrillo ha sottolineato negli ultimi interventi a differenza di quanto era circolato che lui vorrebbe in qualche modo provare a tutelare speed quindi vorrebbe continuare a lavorare insomma su questo canale visto non so insomma se avete seguito c'era chi diceva che probabilmente sarebbe stato mandato in pensione invece Zangrillo ha dato delle indicazioni differenti almeno per almeno per il momento in merito a speed quindi c'è questo canale molti si lamentano di una serie di irregolarità la pubblica amministrazione del dipartimento della funzione pubblica insomma sta promuovendo questo canale proprio per segnalare queste eventuali irregolarità ed è giusto che lo facciate nel caso in cui abbiate contezza di irregolarità nello svolgimento dei concorsi di questo ho parlato ho parlato prima delle interviste di Zangrillo insomma ho detto all'inizio e come altro concorso di cui non l'avevo detto ma aveva accennato la dottoressa prima il concorso SNA molti mi chiedono insomma se Maggioli pubblicherà qualcosa ci sarà un volume quantomeno con quiz commentati in merito alla preparazione della prova preselettiva e come il costo di questo zero euro dottoressa non sarà troppo non è che stiamo chiedendo troppo zero euro cioè io mi aspettavo un prezzo un po' più basso però va bene va bene prof quella lì è ovviamente un'anteprima ah è un'anteprima ovviamente io qui con le dottoressa tolga proprio scritto visto che è un'anteprima me lo tolga mi metta solo per la prova preselettiva perché nelle prove scritte del concorso SNA non ci sono quiz ma ci sono domande a risposta sintetica almeno nella prima prova sì sì esatto e ci saranno anche le prove in basket giusto? eh come seconda prova e la novità di questo bando c'è una prova in basket di cui poi insomma anche Maggioli pubblicherà qualcosa si sta occupando anche di questo settore poi vi aggiorneremo anche sulle prove in basket che riprendono un po' il discorso delle soft skills è una prova che serve a valutare proprio alcune caratteristiche che si valutano proprio le soft skills dei candidati la capacità anche di organizzazione dei candidati sono le prove che chi ha sostenuto delle selezioni in ambito privato in Italia sono state svolte negli ultimi anni in modo particolare nel settore privato a livello internazionale in realtà è da già da un po' di tempo che alcune organizzazioni le utilizzano tipo i concorsi EPSO della comunità della comunità europea poi se avremo tempo se riesco a trovare eh qualcosa di specifico ve la ve la mostro ve la mostro anche però mh anche di questo avevo già accennato qualcosa nel nel insomma in uno dei precedenti webinar eh quando era stata data insomma la notizia che sarebbero state introdotte prove di questo tipo e in effetti poi nella pubblicazione del bando abbiamo visto che c'è una prova di questo tipo molti mi hanno detto eh ma è un concorso molto complicato in realtà io francamente non mi sembra mh così complicato o comunque più complicato rispetto al al passato la prova preselettiva è in linea con le ultime svolte ci sono 12 quiz di logica 12 situazionali e le rimanenti quindi quasi metà della prova tra logica e quiz situazionali e rimanenti quiz sulle eh sulle materie tipo diritto costituzionale amministrativo unione europea economia politica politica economica management pubblico innovazione digitale economia dell'amministrazione pubblica analisi delle politiche eh pubbliche più qualcosina di di inglese ma ripeto in linea con eh le prove l'ultima ad esempio l'ultima prova preselettiva eh dell'ottavo corso concorso a me non è sembrata una prova eh particolarmente complessa non era banale non era scontata ma non era nemmeno una prova impossibile eh mentre le prove scritte dell'ultimo concorso mi sono sembrate abbastanza impegnative quelle sì le prove scritte erano impegnative considerate che eh l'ultimo eh concorso e hanno forse credo anche pubblicato proprio recentemente la regalatoria definitiva dell'ultimo concorso SNA ehm è un concorso che si è concluso con una quantità di bocciati eh notevole cioè con la la regalatoria pubblicata non saranno coperti tutti quanti i posti messi eh messi a bando quindi eh questo è un concorso secondo me comunque interessante chi eh lo vuole provare fatelo nell'ottica che non è un concorso facile indubbiamente ma non è un concorso impossibile è un concorso in cui bisogna prepararsi tanto per raggiungere quel livello di preparazione che vi possa consentire di eh di superarlo eh sia per la preselezione sia per le prove scritte forse l'orale probabilmente è l'ultimo dei problemi io mi preoccuperei proprio per preselezione eh dove c'è la schermatura più grande e poi per le eh prove scritte che sono prove impegnative dove bisogna proprio saper scrivere bisogna dimostrare di saper scrivere in modo razionale poi con eh la prima prova come è strutturata quest'anno è è una prova in cui in poche ore bisogna saper rispondere a quattro acquisiti quindi bisogna avere anche doti di di non solo buona preparazione ma mh bisogna sapere essere sintetici ma sviluppando eh pienamente gli argomenti previsti dalla eh dalle tracce che verranno eh che verranno assegnate va bene ehm queste sono eh un po' le eh novità poi ci sono tanti piccoli concorsi prima la dottoressa Rigelli insomma segnalava anche il concorso del comune di Messina ma ormai sono passati diversi giorni quindi penso che ehm i bandi del comune di Messina li abbiate abbondantemente eh digeriti cos'altro c'è mh se se volete in gazzetta hanno pubblicato alcune informazioni sul concorso della Banca d'Italia eh il diario dei 70 referendari della Corte dei Conti però sono cose che eh chi è interessato può tranquillamente andare a eh a vedere bene dottoressa io ho fatto questo eh resoconto penso di essere stato bravo o no sono peggiorato non sono peggiorato grazie no 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 passiamo alle domande come vuole sono qui allora Salvatore ci chiede concorso MEF 296 posti di luglio 2021 quando è prevista pubblicazione della graduatoria il MEF nel frattempo sta attingendo ad altre graduatorie mh non so cosa fa prof no dicevo non so se sta attingendo da altre graduatorie francamente non quantomeno per quel profilo non mi risulta per il profilo da 296 posti non eh non mi risulta ma può anche darsi che non sia aggiornato io in merito ma non mi risulta che stia attingendo da eh da altre graduatorie no abbiate pazienza insomma vi ho detto ci sono stati molte persone che hanno segnalato delle regolarità soprattutto sulla valutazione dei titoli in molte delle procedure eh portate avanti dalla eh dalla Formez negli ultimi mesi comunque sono tutte graduatorie che eh alcune hanno fatto in tempo il Formez ha fatto in tempo pubblicarle entro la fine dell'anno poi le altre saranno pubblicate adesso insomma inizio anno nuovo e da alcuni giorni che si sono rimessi a lavoro quindi dovete avere davvero pochi giorni di pazienza qualche settimana di pazienza e quantomeno una graduatoria provvisoria sarà pubblicata poi ok dunque ci chiede Maria Carmela in merito alle date uscite del concorso ASL Roma 1 il vecchio 406 amministrativi poi diventati 200 eh sì esatto è uscito il calendario recentemente della prova scritta e prova pratica che faranno insieme ci chiede come qualche consiglio su come prepararsi lì di solito la prova scritta potrebbe essere dei quiz domande aperte oppure un atto amministrativo un elaborato il problema è che non sappiamo come la svolgeranno se sarà una prova quiz o sarà svolta con modalità differenti quindi dare dei consigli è davvero arduo insomma cerca di studiare quello che trovi nei volumi che immagino avrai acquistato ma darti dei consigli più specifici senza sapere nemmeno se saranno dei quiz o sarà gestita in modo differente alla prova è davvero arduo rischio di depistarti se sono dei quiz devi consigliare giusto così in modo orientativo nel caso in cui fossero dei quiz al di là di quello che trovi nei volumi sarebbe interessante provare a dare quantomeno uno sguardo alle principali norme su cui potrebbero vertere le domande e quali sono le norme quelle le trovi basta anche proprio consultare l'indice di un volume per capire insomma quali sono le norme su cui battono o su cui potrebbero battere le principali domande se è un atto e lì per un atto dovresti quantomeno avere contezza di come sono fatti gli atti amministrativi quindi o devi acquistare un volume dottoressa lei ricorda come si chiama il volume maggiore sugli atti amministrativi dunque noi abbiamo un volume di atti amministrativi ad hoc per gli enti locali invece il manuale proprio per il collaboratore assistente ASL contiene all'interno degli esempi di atti amministrativi perfetto quindi già dentro il manuale teorico ci sono degli esempi vari degli atti amministrativi perfetto per questo io dicevo va bene che consultiate i volumi che sono già in commercio se ti piace maggiore puoi consultare il volume maggiore in modo tale da avere contezza di come è strutturato un atto amministrativo questo è se dovessero essere domande con risposta sintetica comunque sia ti serve il manuale perché devi argomentare le risposte quindi ti serve una preparazione manualistica non ti basta nemmeno solo dare un'occhiata alla normativa o svolgere alcuni quiz quindi devi fare un po' tutto in questa in teoria avresti già dovuto farlo nei mesi scorsi magari l'hai già fatto ma per perfezionare la preparazione non c'è altro devi continuare facendo quello se lo hai già fatto cercando di fare sintesi o se ancora non hai avuto modo di studiare in modo approfondito i vari argomenti guardate quando mi ponete queste domande e mancano magari pochi giorni all'utvolgimento delle prove in pochi giorni se avete già lavorato sulla vostra preparazione è tanto di guadagnato se non l'avete fatto è difficile poi costruire una preparazione competitiva in pochi giorni anzi io toglierei anche il difficile cioè non non ci riuscite non certo se fossero quiz uno può fare può andare a provare anche la fortuna come chi vince al superanalotto ma chi vince al superanalotto è una persona su un milione e quindi non aspettatevi poi dei successi potreste essere uno di quel tra il milione di fortunati ma uno ma tutti gli altri poi insomma vanno incontro ad un eventuale fallimento è normale che sia così quindi io spero che ci sia stato uno studio a monte approfondito se c'è stato insomma si tratta solamente di mettere a fuoco un po' di particolari e mi farei proprio guidare dal volume che hai acquistato poi allora prof abbiamo Umberto che ci chiede notizie sull'elenco degli ammessi alla prova categoria D Centro e Pienpiego Calabria un bando che si è perso non ho informazioni specifiche ok siamo sempre al solito punto di prima non è cambiato nulla giusto? no io ho mostrato prima l'elenco delle ultime novità su perché bisogna sempre andare a vedere su equip a manformez non mi sembra che ci fossero i centri dell'impiego della regione Calabria tra le ultime notizie almeno rispetto alla precedente bando vedo regione Calabria c'erano i gradatori finali di merito però dei 487 ma proprio ma questi sono specialista in servizi di lavoro non penso facesse riferimento a questo analista del mercato ci sono queste gradatorie ma queste sono le gradatorie finali di merito evidentemente insomma sono altri altri profili e per gli altri bisogna attendere se non ci sono qui non abbiamo indicazioni più aggiornate ok e facciamo allora andiamo avanti Carmela ci chiede regione Puglia categoria B3 ma direi che aveva c'erano state delle dichiarazioni di alcuni politici della regione che dicevano che questi concorsi sarebbero stati reattivati verso febbraio sia la C i profili C non svolti sia B3 verso febbraio o comunque non prima di febbraio quindi direi non dovete aspettarveli nemmeno gennaio ma da febbraio in poi vedremo se ci saranno informazioni più aggiornate ok invece 2023 mistero della giustizia qui avevamo già in qualche modo parlato ha detto sull'ufficio del processo qualche minuto fa eh ho detto quello che insomma molte tendono di più perché anche quello con il maggior numero di assunzioni è ufficio del processo però ci verranno parecchi mesi non è una cosa imminente da quanto risulta a me quindi qualcuno dice 2024 qualcuno dice che il bando quantomeno potrebbe essere già anticipato a fine 2023 insomma lo vedremo poi strada strada facendo e si parla del nuovo concorso per cancellieri del ministero della giustizia però anche quello non sembra proprio essere imminenti dovrebbe esserci un nuovo concorso però per poche unità nel profilo di contabili per il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria i funzionari UNEP che è un concorso di cui si parla da tempo però a tempo determinato un migliaio di posizioni a tempo determinato al momento si parla si parla di questi concorsi oltre poi i soliti c'è quello per giudici quello per notari eccetera ma sono concorsi che insomma con la cadenza che segue le dinamiche consuete non abbiamo altre novità al momento di cose proprio imminenti imminenti forse l'unico l'UNEP di cui si parla da alcuni mesi quindi potrebbe essere uno dei primi che pubblicherà il ministero della giustizia ok prof andiamo avanti e ci chiede un attimo mi perdoni mi è scomparsa la schermata e dunque arrivo mi perdoni e qui prove allora qualcosa in merito Anna ci chiede qualcosa in merito al concorso centro per l'impiego Lazio sì mi è stato chiesto anche da altri ho provato a cercare di capire meglio come sarà gestito il concorso ma al momento non ho trovato nessuna informazione specifica in merito avete ragione è un bando ormai sono passate parecchie settimane però ancora ad oggi non ho trovato informazioni di dettaglio quindi dobbiamo ancora a tenere speriamo che per il prossimo webinar ci sia qualche notizia in più che riesca a darvi ma al momento non so darvi ulteriori indicazioni comunque è uno di quei bandi che è previsto venga proprio gestito le prove la prova preselettiva venga gestita proprio inizio 2023 però dirvi esattamente se fine gennaio inizio febbraio metà febbraio ad oggi ancora non lo so ci chiede invece a proposito del concorso SNA Riccarda se siano delegate sullo svolgimento delle prove no non ci sono indicazioni precise però nel bando c'erano hanno utilizzato le formule con cui fanno un po' capire quale potrebbe essere la cadenza perché loro dicono che dopo 60 giorni dalla chiusura del bando quindi il bando ufficialmente insomma sarà chiuso a fine fine gennaio quindi 60 giorni dopo significa a fine marzo è possibile che ci sia la pubblicazione del calendario della prova preselettiva il che significa che se dovessero rispettare non è detto sono diciamo delle indicazioni di massimo potrebbero essere rispettate così come per vari motivi potrebbero non riuscire a rispettare comunque se dovessero rispettare tutto considerando che comunque l'avviso per lo svolgimento della prova preselettiva ci deve essere almeno 15 giorni prima dalle prove questo significa questo significa che le prove preselettive certamente non le svolgono prima di metà aprile quindi sicuramente non prima di metà aprile quanto dopo lo vedremo potrebbe essere anche metà aprile fine aprile maggio però esattamente quando non lo sappiamo ecco quindi come unica indicazione certamente non prima di metà aprile ok invece sul bando IMS per diplomatici chiede concetta quando potrebbe essere pubblicato diciamo che insomma ci vorranno alcuni mesi vediamo io secondo me insomma ci avvicineremo all'estate a cavallo dell'estate potrebbe essere giugno o luglio potrebbe essere settembre però per il momento è ancora presto comunque è possibile che riesca ad avvisarvi con qualche mese d'anticipo perché l'IMS per il modo insomma operativo il modus operandi dell'IMS a volte si riesce a saperlo con qualche mese d'anticipo la pubblicazione di un bando intanto per il momento c'è ancora da aspettare però è uno di quei bandi sui quali insomma se lo attendete con particolare ansia cioè adesso in questa fase dell'anno è fondamentale che proprio programmiate le vostre come dire la vostra scaletta in merito allo studio anche se non avete delle indicazioni precise su alcune date ma createvele voi queste indicazioni cercando di capire puntate in modo particolare a un particolare tipo di concorso sì allora se puntate tanto a quel concorso per motivi vostri qualunque esso sia e dovete studiare di brutto su quello ma davvero di brutto su quel concorso meglio sarebbe cercare di secondo me focalizzare l'attenzione su varie tipologie di concorsi ma magari concorsi che siano in qualche modo coerenti per evitare di allargare troppo la vostra preparazione perché tanto tutto non potrete fare quindi da quello che vi ho detto insomma anche quest'anno ci saranno tanti concorsi enti locali c'è anche quello della regione Campania di cui si aspettano a giorni notizie più precise probabilmente avremo notizie secondo me verso fine gennaio o a febbraio comunque non dovrebbe passare tanto per avere notizie più dettagliate anche sul nuovo concorso della regione Campania quindi ci saranno tanti concorsi a cui potrete partecipare però in questa fase conviene per massimizzare la possibilità di successo cercare di essere coerenti nelle scelte cioè non scegliete concorsi che siano troppo diversi l'uno dall'altro perché a quel punto andreste a dividere il vostro impegno su troppe materie rischereste insomma di non raggiungere una preparazione degna magari in nessuno dei concorsi quindi io visto che comunque ci saranno tanti bandi cercheri di intanto di capire su che tipo di bandi puntare quelli degli enti locali tipo quelli dei comuni visto che più o meno poi indipendentemente dal comune che lo bandisce le materie sono sostanzialmente sempre quelle oppure puntate alla bando che ne so nell'ambito del lavoro che può essere che può essere le agenzie regionali per il lavoro eccetera puntate cercate di orientare il vostro impegno su questi tipi di bandi iniziate a studiare quelle che sono le materie enti locali iniziatevi a studiare per bene diritto amministrativo e il tuo ad esempio che ci sono in tutti i bandi sugli enti locali oltre informatica inglese eccetera bandi nell'ambito del lavoro ebbè dovete conoscere bene che ne sono materie come il diritto del lavoro la previdenza sociale se puntate a IMS e quindi fatevi uno studio dettagliato iniziate da questo oltre al diritto amministrativo o altre materie cioè cercate di essere razionali cioè grazie a Dio avete possibilità di scelta almeno per il 2023 avete possibilità di scelta non non siate troppo dispersivi nelle scelte che farete questa è la cosa importante poi indipendentemente dalle date da quando ci saranno i bandi però se utilizzate questo approccio poi comunque studierete a prescindere dalla pubblicazione del bando e poi man mano che c'è un bando coerente con le vostre scelte comunque lo andate a provare anche solo come forma di allenamento concorso poi ci chiede Ambra se può far rivedere il modo per visionare i ricorsi dal sito funzione pubblica era qui funzionepubblica .gov .it slash fonte slash dipartimento ce ne sono parecchi ci sono vari atti di notifica il sito è stato proprio aggiornato recentemente perché prima non so se sono sfuggiti a me ma io non ricordo così tanti atti di notifica evidentemente è cambiato qualcosa nella gestione del sito e li stanno pubblicando tutti quanti e ce ne sono proprio tanti tutti relativi agli ultimi bandi di concorso gestiti dal Formex ok Maria ci chiede novità su Asmel Ministero Giustizia ma qui abbiamo risposto Regione Campania che erano stati annunciati si Regione Campania bisogna attendere anche Asmel bisogna attendere Asmel sta pubblicando vari interpelli devo dire i più frequenti i più numerosi sono quelli per profili tecnici però c'è anche qualcosina per profili amministrativi quindi Asmel in merito però alla precedente selezione sta procedendo anche con gli interpelli di alcuni enti locali che avevano aderito alla procedura Asmel per la nuova procedura concorsuale ancora si si attende so che era stata annunciata per novembre e siamo a gennaio non vi so dire il motivo di questa attesa rispetto alla programmazione iniziale Regione Campania De Luca aveva insomma dato indicazioni per inizio anno siamo inizio anno io prima ho detto mi aspetterei qualche notizia un po' più precisa non prima di fine mese non prima di fine gennaio ok prof ho un quiz da farle ma lo farei alla fine mancano ancora due o tre domande poi se vuole risolviamo il quiz al volo allora Giacomo ci chiede quale potrebbe essere la data di presa di servizio dei vincitori concorso IMS consulenti della protezione sociale si dice che già per la fine del mese dovrebbero inviare le lettere per la scelta della della sede e allora intanto sicuramente per i vincitori insomma dovrebbe essere inizio marzo per i vincitori per il 1858 si attende di capire inizio marzo o comunque insomma giù di lì giorno prima o giorno dopo e si attende di capire se procederanno sia per i vincitori che per gli doni tutti quanti subito o se procederanno in due step lo sapremo tra alcuni giorni se procederanno in due step i vincitori inizio marzo ovviamente poi per tutti gli altri ci sarà da attendere qualche mese quindi queste sono le due possibilità o quantomeno sono delle indicazioni adesso ancora certezza non l'abbiamo sono le voci che stanno circolando con insistenza sono queste due ok poi prof correggiamo un attimo la domanda di Carmela che è stata un po' preciso e ci ha dato i dettagli voleva sapere su Ministero della Giustizia non tanto l'ufficio del processo ma quelli a esecuzione esterna se c'erano novità no non ci sono novità però ha ragione Carmela perché da tanto che se ne parla e dobbiamo attendere ci dobbiamo aggiornare su questo quindi non riesco a darvi delle indicazioni precise perché non ci sono al momento novità comunque è uno dei bandi sicuramente attesi e che dovrebbe uscire insomma in tempi a inizio 2023 però dirvi esattamente quando al momento non lo so ok e dunque notizie sull'uscita graduatoria RIPAM diplomati lo accennavo prima è una di quelle cose che insomma non passerà tantissimo tempo adesso io non so se tra i vari atti di notifica che ci sono sicuramente ce ne saranno alcuni che hanno inciso anche su quella o che incideranno su questo concorso cioè sicuramente probabilmente perché se non c'è la graduatoria magari non ci sono nemmeno dei da quanto so io è solo proprio una questione di lavoro di tempistica perché i controlli dell'affare sono tanti sono migliaia di candidati idoni quindi però a me risulta che non passerà tanto tempo cioè non già la si attendeva per fine anno siamo a inizio gennaio quindi ancora qualche giorno di pazienza ok allora abbiamo finito le domande farei il quiz prof vado allora il quiz ce lo pone Miriam e dice a Calide il 27% delle persone parla occitano il 34% parla friulano il 39% parla ladino se quelli che parlano ladino sono 5.655 quante persone vivono a Calide allora qui io farei lo lo imposterei a modo di proporzione allora se noti come si chiama la persona che ce l'ha chiesto Miriam 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 mi sono chiesto solo qualche secondo di tempo per capire se queste percentuali in qualche modo si sovrapponessero o costituissero il 100% se noti la somma di questi tre numeri 7 più 4 11 più 9 siamo a 20 più 2 40 e 30 70 e 30 100 quindi praticamente ti ha dato il 100% della diciamo della della popolazione quindi come a dire magari ci sarà qualcuno che parla anche entrambe le lingue ma io penso che per come impostato il quiz voglio dire che il 39% abbia come prima lingua diciamo così il ladino 34% come prima lingua il non so che cos'era e il 27% come prima lingua l'occitano in modo tale che non ci siano delle delle sovrapposizioni cioè queste percentuali rappresentano il totale della popolazione e quindi a questo punto se sai che il 39% corrisponde a 5.655 il 100% corrisponde a X cioè lo sviluppi come come proporzione scrivendo 39% sta 5.655 come il 100% sta X se mi chiedi come svilupparlo a mente considera che spesso queste sono domande che sono prese da banche dati e quindi è anche normale che insomma certe cose non certi calcoli siano particolarmente complessi quindi come struttura della domanda ti puoi anche aspettare che nel concorso che stai preparando possano capitare dalle domande di questo tipo ma magari con dei calcoli più semplici da svolgere a mente con dei numeri non come 39 5.655 ma come che ne so 39% sta 390 tanto per per dirti quindi 100% sta 1000 cioè io mi aspetterei piuttosto delle cose del genere dei calcoli più fattibili quindi l'impostazione è la divisa per fare per lo svolgimento dei calcoli non ti spaventare non aspettate di cose impossibili ci può essere qualcosa di più complicato ma non aspettate di cose cose impossibili non so se Miram è soddisfatta della domanda poi se vuole proprio il calcolo qui potrei anche spiegarti delle tecniche ma adesso ci vorrebbe insomma troppo tempo qui si tratta poi di sviluppare la proporzione dobbiamo fare 5.655 per 100 cioè abbiamo 565.500 diviso 39 poi il 39 la divisione è anche abbastanza può sembrare una divisione difficile ma il 39 e il 56 ci sta una volta scrivo 39 poi 56 meno 39 fa 17 abbasso il 5 quante volte ci sarà il 39 e il 175 probabilmente un 4 è un 4 volte 4 per 9 36 6 nel riporto 3 4 per 3 12 3 15 facciamo la differenza 15 meno 6 fa 9 16 meno 15 abbiamo 19 abbasso il 5 e qui bisogna vedere che adesso il 39 nel 195 ci sta 5 volte perché la dottoressa conosce la tabellina del 39 me l'ha suggerito la dottoressa quindi 5 per 9 45 5 nel riporto 4 5 per 3 15 4 19 quindi pagato 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 e abbasso questi altri due zeri e quindi io direi 14500 diciamo che delle strategie per svolgere questi calcoli ci sarebbero però intanto bisognava conoscere anche le risposte perché magari avendo contezza della risposta avrei voluto dire che questa risposta è impossibile con i dati che abbiamo a disposizione o meno quindi senza le risposte diventa impossibile come seconda considerazione ti dicevo quello che ho detto prima devi saper comunque impostare questi quiz perché poi al di là delle risposte insomma bisogna saperli impostare te lo possono dare simile ma con dei dati più facili da da insomma da da gestire terzo potrei darti altre tecniche ma insomma adesso ci vorrebbe del tempo però abbiamo risposto a Miriam era quello che voleva ecco prof stavo parlando col microfono muto e allora si potrebbe alternativamente provare un calcolo approssimativo o l'ha fatto adesso ok grazie si suppone che con le nuove modalità si può provare un calcolo approssimativo ma per questo dicevo a Miriam devo avere le risposte se no che calcolo approssimativo faccio se non ho le risposte dovrà darci anche le risposte allora aspetti che ci sta rispondendo e dice si suppone che con le nuove modalità di quiz non cartaceo i calcoli siano più agevoli Miriam se tu per caso hai le risposte e ce le vuoi scrivere al volo sicuramente appunto come diceva il prof si può provare il calcolo approssimativo utilizzando le opzioni risposte per vedere e scegliere insomma la risposta esatta assolutamente sì ok comunque altre domande prego anche nelle prove senza carta e penna hanno dato cioè io non voglio spaventare hanno dato domande tipo queste però con le risposte che c'erano o con le tecniche del calcolo approssimato o con altre tecniche e quello che io sto spiegando ad esempio nel corso dell'agenzia delle entrate che sto facendo come metodo codicuo sto mostrando una serie di tecniche per rispondere alla quiz però devo avere le risposte per poter indicare una strada piuttosto che l'altra strada che può essere tecnica di calcolo approssimato strada che può essere legata ad alcune proprietà dei numeri eccetera quindi hanno assegnato anche domande particolarmente complesse però ce ne sarà una nell'ambito della prova nella sua interezza non dovete aspettarvi 20 domande tutte quante impostate così ce ne sarà una particolarmente complessa che poi comunque è importante saper rispondere a quell'unica domanda quindi mi rendo conto che se Miriam me lo chiedeva nel senso dobbiamo prepararci anche su queste domande vi devo dire purtroppo sì però rispetto al passato quando molti concorsi vengono fatti con carta e penna diciamo in termini di preparazione dovete cambiare tipologia di preparazione dovete sviluppare anche altre tecniche che purtroppo spesso dai volumi non si riesce ad acquisire quindi i volumi vi danno un'infarinatura per acquisire insomma queste nuove tecniche ci vuole tempo e ci vuole pazienza per cui sicuramente se dovete svolgere concorsi con la logica prima iniziate meglio è prof e intanto Miriam ci ha dato le risposte che erano molto vicine fra loro ovvero 14.000 15.000 14.500 14.000 hai detto poi 15.000 sono molto sono molto vicine è vero sono molto vicine però allora svolgendo il calcolo per dire quindi anche con volendolo fare in modo approssimato insomma potrebbe essere particolarmente rischioso però svolgendo il calcolo io quello che noto è ragiono in termini di caratteristiche dei dei numeri nel senso che da questo calcolo senza svilupparlo poi nella sua interezza questo è il calcolo che noi dovremmo fare io mi chiedo intanto divido per 39 39 che cos'è? è un 3 per 13 quindi io sto dividendo per un multiplo di 3 e per un multiplo di 13 quindi hai ragione in questi termini 100 sicuramente non lo potrò semplificare perché non è un multiplo di 3 né un multiplo di 13 100 è uguale a 2 per 5 per 2 per 5 o se volete un 2 al quadrato per un 5 al quadrato quindi non c'è nella struttura del 100 qui io ragiono proprio in termini di numeri come sono formati come di scompolghèi nella struttura del 100 non c'è né il multiplo di 3 né il multiplo di 13 nel 5.655 evidentemente questo deve essere un multiplo di 3 in effetti se vedete 5 più 510 più 515 più 621 come faccio a vedere se un numero è un multiplo di 3 sommo tutte quante le cifre del numero quindi questo 5.655 io lo divido per 3 però a questo punto mi chiedo ma dividendolo per 3 cosa cosa ottengo quindi al massimo faccio solamente questo ovviamente non scelgo il multiplo di 13 perché insomma mi complicherei molto in termini di analisi e uno dice ma come faccio a fare questa divisione di 5.655 diviso 3 beh qui mi aiutano tanto le tabelline diciamo che secondo me dovrebbe essere un 1885 dottoressa vuole controllare se questo numero diviso 3 mi da 1885 controlli controlli perché è fondamentale mi ridica perdoni 5.655 diviso 3 1885 vado dottoressa è bravino a lei non serve la calcolatrice se lei vuole qualche calcolo mi chiami io ce lo faccio subito faccio prima dalla calcolatrice si va bene a tutte le ore risponde però io lo so a volte non rispondo c'è ragione a volte non rispondo però lei insista insista insomma allora le dicevo quindi su questo ad esempio ci sarebbero dei modi delle tecniche per capire come svolgere questo calcolo a mente che si può fare adesso è lungo da sperarvi ma si può fare ma perché dico questo una volta che io so che devo poi sostanzialmente fare questo 1885 per 100 io ragiono in termini di criteri di divisibilità mi chiedo questo numero è una quantità divisibile per 7 secondo lei dottoressa si può vedere se questo numero è divisibile oppure è una quantità divisibile per 3 no non è divisibile per 3 perché per 3 è facile sommo le cifre 1 più 8 9 9 più 8 fa 17 17 più 5 siamo a 22 quindi se non è divisibile per 3 io certamente non avrò come risultato un numero un multiplo di 3 perché un multiplo io non lo posso creare il risultato di un'operazione se moltiplico un multiplo di 3 per un multiplo di 4 allora io posso avere un multiplo di 3 come risultato ma se io tra i numeri che moltiplico non c'è il multiplo di 3 se moltiplico 7 per 4 tipo ottengo 28 e 28 non è un multiplo di 3 quindi se moltiplico quantità che tra loro non sono multipli di k non posso ottenere come risultato un multiplo di k quindi io qui moltiplicherrei questo 1885 per 100 e non posso ottenere come risultato un multiplo di 3 quindi questo 15.000 che è un multiplo di 3 io l'avrei scartato per questo motivo poi mi chiedo visto che ho 14.000 che è un multiplo di 7 mi chiedo questo 1885 100 certamente non è un multiplo di 7 ma potrebbe potrebbe esserlo 1885 come faccio a chiedermi se 1885 è un multiplo di 7 farò la prima parte del numero 188 meno il doppio dell'unità cioè meno il doppio di 5 quindi meno 10 188 meno 10 da 178 ho difficoltà ancora a vedere se è un multiplo di 7 procedo con il 178 faccio 17 meno il doppio di 8 meno 16 17 meno 16 è 1 quando si ottiene 0 oppure un multiplo di 7 io posso dire che il numero è un multiplo di 7 avendo ottenuto 1 dico che il numero non è un multiplo di 7 quindi anche questo 14.000 non lo posso ottenere perché io da questa moltiplicazione poiché non sto moltiplicando un multiplo di 3 poiché non sto moltiplicando un multiplo di 7 non posso ottenere come risultato un multiplo di 7 questo per mostrare a Miriam come delle tecniche ci sono però sono tecniche che adesso magari Miriam dirà ah sono sono belli interessanti e come faccio ad acquisirle come faccio ad acquisirle dottoressa si acquisiscono ci vuole tanto tempo con il corso di tecniche di calcolo con ad esempio il corso di tecniche di calcolo assolutamente sì che è disponibile su formazione maggiori sono ben 30 lezioni con una gratuita lezione 0 disponibile su youtube per vedere come avere una prova prova provante del corso dove acquisiscono tutte le varie tecniche di calcolo ci vuole un po' di tempo è ovvio che non si può utilizzare per una preparazione in una settimana sulle tecniche di calcolo però con qualche settimana di tempo si riesce a fare tutto assolutamente nella vita si riesce a fare tutto prof Miriam è soddisfatta della risposta? speriamo di sì perfetto grazie mille pare di sì allora prof bene prof ha una citazione da darci per chiudere? ma io darei come primo incontro la stessa citazione con cui abbiamo finito l'ultimo incontro così siamo in continuità quando le tue gambe sono stanche cammina con il cuore buon inizio benissimo allora io inizio a camminare con il cuore perché ho le gambe già stanche allora ringrazio il professor Cotruvo ringrazio che ci ha seguito in questo primo appuntamento del 2023 ringrazio il nostro regista Alberto Bianchini ci riaggiorniamo la prossima settimana con altre novità sui concorsi pubblici piccoli e grandi perfetto grazie mille a tutti buona giornata grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti